Detto questo io darei subito la parola a Daniele Pipitone per la presentazione della traccia numero 1. Diamo per scontato che si conoscano le tracce nella loro formulazione perché se no ci porterebbe via un po' di tempo la lettura. Comunque diciamo il titolo è La guerra fascista a 80 anni dall'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale. A te Daniele. Grazie Enrico, buongiorno a tutti. Io ho preparato un breve PowerPoint ma più che altro come appoggio per la presentazione. Lo condivido adesso. Per favore datemi un feedback se lo vedete. Sì, io lo vedo. Sì, vedo. Ok, allora faccio partire la presentazione e ci siamo. Allora, la traccia, come diceva Enrico, è la guerra fascista a 80 anni perché è stata redatta quest'estate, inizio d'autunno, cioè in occasione, vicino all'occasione dell'attacco fascista alla Grecia. A 80 anni dall'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale che era avvenuto sempre nel giugno del 1940, cioè ormai sono quasi 81 anni. Comunque, il titolo, ma lo salto perché è presente nel bando ed è stato qui ed è comunque lungo da leggere. Inizierei, parlerei brevemente, darei un breve approfondimento su cosa significa il tema, su quali sono gli argomenti che possono essere trattati e poi parlare un attimo delle fonti disponibili, dei metodi che si possono utilizzare per realizzare il prodotto finale. Allora, la guerra fascista 40-43, cioè la guerra combattuta dall'Italia, voluta dal regime fascista e combattuta a fianco della Germania itleriana, cioè il periodo più lungo di coinvolgimento dell'Italia nel secondo conflitto mondiale. Si possono distinguere all'interno della guerra quattro aspetti che anche dal punto di vista, come dire, della presentazione del conflitto, della partecipazione dell'Italia al conflitto in questi anni e dal punto di vista del ragionamento didattico è utile mettere in luce. La guerra fascista è stata una guerra d'aggressione, cioè l'Italia ha prima dichiarato guerra nella Francia e nella Gran Bretagna, poi ha aggredito la Grecia e poi a fianco della Germania ha inviato prima il corpo di spedizione e poi l'armata italiana in Russia. Cioè è stata una guerra in cui l'Italia ha svolto il ruolo di aggressore. Questo non è un elemento di secondo piano, anche perché, mi permetto di dirlo in maniera anche un po' semplicistica per causa dei tempi, la memoria dominante del secondo conflitto mondiale in qualche modo è quella dell'Italia paese occupato, paese conteso fra un invasore tedesco e i liberatori alleati. Ebbene, questa memoria è sicuramente valida e fondata per il periodo successivo all'8 settembre, ma bisogna sempre ricordare, ed è importante ricordare anche agli studenti, questo a mio parere, ma credo che sia condiviso, il fatto che l'origine di quel conflitto sta nella scelta italiana, del governo italiano dell'epoca, di aggredire i paesi limiti. L'altro aspetto, che non riguarda soltanto questi anni, ma non riguarda solo l'Italia, è la guerra totale. Cioè la Seconda Guerra Mondiale è la guerra totale per definizione, sia per l'impiego delle risorse, e ai fini bellici, sia per il coinvolgimento via via più massiccio della popolazione civile. E stiamo parlando, su cui torniamo, torniamo nel punto successivo. Perché c'è un punto di domanda sulla guerra totale? Perché in realtà la mobilitazione delle risorse in Italia fu sempre complessa, soprattutto nel secondo conflitto mondiale. Per fare solo un esempio, poco prima di dichiarare la guerra alla Grecia, l'esercito aveva cominciato una parziale smobilitazione delle truppe già mobilitate all'epoca. Il fascismo ebbe difficoltà o non volontà di realizzare una vera e complessa mobilitazione, e di fatto questa avvenne in tono minore rispetto a quanto accade, ad esempio, nella Prima Guerra Mondiale in Italia, o rispetto ad altri paesi, quali la Germania o la Gran Bretagna, insomma. E questo è anche un elemento interessante, perché è un elemento che apre il discorso sulla solidità del regime, sulle priorità del regime, ad esempio di mantenere il consenso, nell'evitare di imporre sacrifici, in maniera ovviamente tentativa o fallimentare per come andarono le cose, ma anche per, come dire, mette in luce anche l'aspetto, l'intento propagandistico che era presente e importante nelle scelte belliche del regime, cioè fare una guerra che avesse un valore propagandistico ma non costasse veramente caro, almeno all'inizio, poi naturalmente sappiamo com'è andata. L'altro aspetto che è importante è che fu una guerra d'occupazione. L'Italia perse quasi praticamente tutte le battaglie, però occupò ingenti territori. Vedete qua una cartina, le immagini sono immagini di corredo naturalmente, ma in questo caso è utile. C'è una cartina della Jugoslavia. L'Italia occupò alcuni territori della Jugoslavia, in particolare ricordiamo la Dalmazia e la Slovenia, ma occupò anche buona parte della Grecia, naturalmente conquistate, sconfitte, conquistate dalla Germania, ma affidate poi all'alleato italiano nella gestione dell'occupazione. E in questa occupazione gli italiani commisero crimini di guerra, misero in atto politiche anche differenziate da zona a zona, ma a volte anche estremamente dure, per esempio ricordiamo, e appoggiarono anche gli stati fantoccio come gli Ustasciani croati, che operarono, come dire, stragi e massacri e misero in atto politiche efferate. Parlerò poi, farò un cenno a Montanelli come un esempio di un possibile caso di studio, molto generico ovviamente, ma giusto per... Montanelli scriveva dei reportage della Jugoslavia occupata inneggiando la violenza degli Ustascia contro gli Slavi inferiori, insomma, per ricordare. Quindi l'occupazione, l'occupazione fu un ruolo importante, la Seconda Coroneale ricordata come normalmente il periodo in cui i tedeschi invasano l'Italia, ebbene, in realtà gli italiani occuparono la Grecia, la Jugoslavia, in realtà anche l'Albania, anche se era stata occupata prima, per numerosi mesi, anni, e con politiche non paragonabili, forse come tedesche, ma sicuramente che causarono una lunga, come dire, strascico di lutti e anche di memorie ostili. L'ultimo aspetto è la guerra che coinvolge i civili, e come dicevo prima, la guerra Seconda Coroneale è una guerra totale. Una guerra che coinvolge i civili per tre aspetti, ricordiamo, ma insomma questi fanno noti, cioè la mobilitazione parziale, come ho detto prima, ma comunque una mobilitazione delle risorse ai fini bellici. La vita quotidiana, aspetto che è emersa quasi subito, perché quasi subito il regime non riuscì più a controllare i prezzi e l'approvvigionamento alimentare, e quindi imposa rapidamente il razionamento è emersa rapidamente il fenomeno della Borsa Nera, che ovviamente creava scompensi a livello socio-economico e accresceva le tensioni sociali. E poi l'aspetto nuovo proprio della Seconda Guerra Mondiale, cioè i bombardamenti, i bombardamenti che, cominciati all'indomani della dichiarazione di guerra, naturalmente ebbero poi un'intensificazione negli anni successivi e nei mesi immediatamente precedenti l'armistizio, ma che comunque segnarono, in particolare segnarono il territorio piemontese, vari non solo Torino, e sono invece un elemento centrale anche nella memoria. Passo alla slide successiva. in cui consigli, per restringere il campo da un tema così vasto, io penso che si possano scegliere due strade, fondamentalmente, o uno studio di caso, cioè scegliere un evento, una campagna, un personaggio, o un'organizzazione da studiare, un luogo, a seconda che si voglia parlare naturalmente dell'aspetto bellico, dell'aspetto più, come dire, militare, dell'aspetto civile, dell'aspetto culturale o ideologico, e focalizzare lo studio su questo elemento. Ho dato alcuni suggerimenti, ovviamente, molto generici, noti a tutti, anche un po' troppo generali ancora, in questo caso, ma per farsi capire. L'altro taglio possibile è affrontare un aspetto della guerra, di nuovo, per chi fosse interessato all'organizzazione dell'esercito, ma poi gli aspetti che caratterizzano il secondo conflitto tipice, il secondo conflitto, cioè la propaganda, il razionamento, l'amministrazione dei territori occupati. Oppure, cosa? Unire le due cose e lavorare su uno di questi aspetti in un contesto specifico, che forse potrebbe essere una scelta particolarmente adatta a un lavoro legato al territorio, perché le vicende del razionamento, ma anche della propaganda del regime, la propaganda di guerra, può essere immediatamente calata nell'esperienza del territorio in cui le scuole sono inserite, nel Piemonte, insomma. I bombardamenti su Torino, per dire, è un argomento di questo tipo, un po' banale, ma sicuramente dalla mia esperienza, anche breve, di correttore, ho visto che l'originalità non è quella che manca negli elaborati che vengono proposti, però l'idea è questa. Ecco, l'aspetto importante che vedete rilevato nel riquadro in fondo è focalizzarsi anche sulla dimensione della memoria. Ho insistito in qualche modo sulla memoria nel presentare l'argomento, perché è una memoria molto più problematica quella di questi anni. L'esempio più significativo è la memoria dell'occupazione italiana di territori stranieri, che è stata a lungo rimossa, di cui poco si parla, e che è stata anche coperta da miti, quali l'italiano, il bravo italiano, contraposto al cattivo tedesco, per cui i tedeschi erano crudei, gli italiani invece erano bonaccioni, simpatici, alla Mediterraneo, come dire. Ecco, questo aspetto della memoria ha influenzato anche nella storia, nella rappresentazione e anche nel modo in cui la storia viene narrata, per cui tenerlo presente e considerarlo, farlo presente agli studenti, ha anche una importante funzione di messa in discussione, di stereotipi, spesso, non sempre, ma spesso autoassolutori, che vengono ancora molto diffusi nel discorso pubblico. Passo alle fonti e ai metodi. Le fonti possono essere, le fonti, non intendo tanto le fonti della ricerca storica, del lavoro dello storico, ma le fonti utilizzabili dagli studenti per svolgere questo lavoro, che possono essere appunto fonti coeve, cioè fonti documenti storici di vario genere, oppure fonti successive, che però possono essere utili, anzi quasi indispensabili per un lavoro svolto dagli studenti. Fra le fonti coeve, giornali, riviste, romanzi, sono sicuramente estremamente utili. Facevo prima l'esempio di Montanelli, che scriveva i reportage dalla Jugoslavia Occupata, aveva prima scritto i reportage dalla Finlandia e dalla Spagna, prima ancora all'inizio della guerra. Le fonti audiovisuali, c'è una grossa ricchezza di film, ma soprattutto di notiziari, di trasmissioni radiofoniche, penso soltanto all'archivio delle Sottoluce disponibile online e estremamente ricco nel raccontare l'Italia in guerra, naturalmente fonti che vanno utilizzate con l'accorgimento di tenere presente che erano fonti controllate dal regime, c'erano fonti di propaganda, ma comunque per cui bisogna leggerle con un certo metodo, che però possono costituire degli elementi preziosi. L'altro fonte sono gli archivi. Noi su tutta la resistenza possediamo gli archivi, ovviamente principalmente legati al movimento di resistenza, cioè a un periodo che non è direttamente, come dire, coperto dalla traccia, ma non soltanto, insomma, abbiamo fondi privati, fondi di memoria, di personaggi che hanno, di protagonisti della resistenza, che però presentano anche documenti che possono essere utilizzati per lavorare, ovviamente principalmente sulla dimensione locale della ricerca. E poi ci sono gli archivi cittadini, l'archivio centrale dello Stato, che ahimè è inattingibile in questo momento comunque a Roma, e un altro esempio, ho messo l'archivio diaristico nazionale, che è l'archivio di Pieve Santo Stefano, che conserva un numerosa quantità di diari, di memorie di varie epoche, ma fra queste anche quelle di guerra, e oltre delle quali disponibili online, è un, come dire, un archivio molto ricco e di grande interesse per la ricostruzione della percezione della mentalità di un'epoca. Tra le fonti successive, le fonti letterarie, libri, film, cioè scusate, libri, racconti e testi che raccontano la guerra, che ricordano la guerra, in qualche modo che costruiscono la memoria, queste fonti sono particolarmente significative se si vuole, come dire, mettere l'accento sull'aspetto della costruzione o della memoria, e le fonti audiovisive, film, documentari, programmi radio e tv, insomma la Seconda Guerra Mondiale è uno degli argomenti più gettonati, sia nella documentalistica, sia nella filmografia, normalmente la guerra italiana è un po' meno, è in maniera particolarmente, ed è particolarmente esposto, questo tipo di materiale è particolarmente esposto all'edulcorazione della memoria di cui facevo cenno in precedenza. E poi le testimonianze, adesso le testimonianze dirette sono sempre di meno, naturalmente, però ci possono essere certe testimonianze dirette, indirette, figli che ricordano di genitori che raccontavano, anche qua, diciamo, la storia orale è molto, va presa con le molle, bisogna stare molto attenti a prendere queste testimonianze, a lavorare su queste testimonianze, ma sicuramente hanno un effetto di vividezza e anche di, come dire, immediatezza della relazione didattica che può essere sfruttato. L'ultimo, non ricordare la, bisogna non dimenticare, la bibliografia, la bibliografia che è fondamentale, in particolare per un lavoro da parte di studenti che prima di ogni traccia, prima di iniziare a lavorare su fonti, diretto o indirette, devono avere un quadro minimamente generale dell'argomento che intendono trattare. L'ultimo aspetto, Enrico non so se ho ancora un attimo di tempo, l'ultimo aspetto su cui vorrei, come dire, attivare l'attenzione è la nota metodologica che, se non sbaglio, invece non è cambiata rispetto agli anni scorsi, la presenza della nota metodologica che ricordo, terrei a ricordare, essere molto importante perché la valutazione dell'elaborato avviene non soltanto sul materiale che viene offerto, ma anche sulla descrizione dettagliata, analitica e approfondita del percorso di ricerca che c'è dietro quel prodotto. Quindi, nella nota metodologica bisogna indicare molto chiaramente a quale bibliografia si è fatto ricorso, cioè i libri, la sitografia e la filmografia in tutti questi casi con una, aderendo alle norme standard di citazione, cioè il libro va citato non soltanto per il titolo, ma autore, titolo, data e luogo di edizione, la sitografia è importante segnare quando è stata consultata una pagina, perché le pagine cambiano, non le pagine web, per la filmografia, di nuovo, autore, data e luogo è un po' meno importante per un film di edizione, ma un paese di produzione del film, che è invece molto importante perché tra un film prodotto in America e un'Italia sulla guerra italiana molto cambia, e per quanto riguarda invece i documentari, bisogna insegnare l'autore del documentario, il produttore del documentario e dove è possibile rintracciarlo. In generale bisogna sempre dare la possibilità al correttore di rintracciare tutte le fonti utilizzate, individuarle e poter valutare se ne sia stato fatto un uso, come dire, corretto oppure se siano state forzate, ad esempio. Ecco, questo è importante ed è sicuramente un criterio che noi utilizzeremo per valutare un elaborato. dopo aver oltre a queste cose e lo stesso vale per le fonti documentarie naturalmente, chiedete se mai usaste fonti archivistiche gli archivisti che vi come dire ve le renderanno disponibili vi aiuteranno anche a vi spiegheranno come citarle in modo da renderle come dire identificabili e agevolare l'accesso l'ultimo aspetto è il metodo cioè spiegare bene come è nata la ricerca da quale esigenza da quale idea per quale motivazione si è scelto l'argomento che viene trattato come è avvenuta la ricerca dei materiali come è avvenuta l'analisi dei materiali e poi come è avvenuta la produzione indicando i vari soggetti che sono stati coinvolti i vari studenti la divisione dei ruoli e anche indicando il metodo che si è eseguito per realizzare il prodotto che viene presentato io mi fermo qui direi spero di sia stato sono andato un po' veloce ma spero di essere stato nei tempi e se naturalmente rimango disponibile per eventuali chiarimenti domande di qualunque genere